Beh, è evidente che dare il buon taglio è sempre molto difficile. La Caon dice che bisogna che l'analista calcoli bene, senza però sapere che gli effetti sono incalcolabili. Ora, deve considerare tutto quanto questo. È evidente che la durata, la lunghezza di un'analisi deve essere anche in funzione del paziente, nel senso che ci sono delle persone che hanno bisogno di molto tempo e bisogna dargli il loro tempo. Posso dire che quando un'analisi funziona molto bene, il taglio è rapido, però è come se uno passa una marcia superiore. Quindi bisogna che segua bene l'analista quello che avviene nei giorni successivi. Per esempio, un'esperienza personale, è difficile fare dei tagli rapidi così poco prima delle vacanze estive, perché il taglio mette in moto delle funzioni dell'inconscio che richiedono la risposta dell'analista. E bisogna che l'analista sia in qualche modo reperibile. Quindi io credo che deve essere strettamente in funzione dell'inconscio del paziente e non del comfort dell'analista. Bisogna però tenere anche presente una cosa, il taglio dell'analista ha a che fare con il discorso dell'analizzante, riguarda la posizione del sapere. C'è un altro aspetto che Lacan invece tiene presente e che è estremamente importante, è la presenza dell'analista. Questo è uno dei motivi per cui, per esempio, per noi lacaniani è praticamente impossibile fare le analisi tramite internet. Sappiamo che degli analisti di altre scuole e di altre società lo fanno. Sarebbe interessante vedere che cos'è che dà come risultato. Ebbene, per noi è impossibile, almeno per me è impossibile. Bisogna che ci sia la presenza dell'analista. Per interpretare, cioè per poter produrre il taglio, bisogna non soltanto l'aspetto del taglio che ha a che fare con il sapere, ma la presenza dell'analista come oggetto dell'analizzante che direi che è in posizione come negativa quando il paziente è in posizione positiva, come se c'è questo flusso elettrico che passa dall'uno all'altro. E ci vuole il corpo dell'analista. Grazie a tutti.